Oggi bimbi ci sono voglia di vivere, però ci siamo svegliati stamani Berlina e Paola, Paola per prima si è svegliata, poi ci prendesse, ma che bello, guardo, Paola stamattina si è svegliata, tipo prima delle 7, tipo che ora era, 20 alle 7, un quarto alle 7, e voleva fare colazione, se uno dice che è di domenica, lui dice vabbè, dai, perché alla fine si è svegliata, si è svegliata, deve, 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 ha cominciato a fare un casino, però deve invece, oggi è proprio una giornata, proprio di velle, che proprio ti arzi i ciondoli per casa, ho visto la domenica del, come si dice, del fancazzismo poi, no, perché sinceramente stamattina uno dice, usciamo a fare colazione, ma dove vuoi andare, ma Mattia, c'è nemmeno voglia di muovere le gambe, proprio, però si stava pensando, poc'anzi, Paola mi ha gentilmente, e giustamente fatto notare che dice oggi, è la classica giornata da lasagna, la lasagna, però poi giustamente Paola ha detto, voglio ripreparare le lasagne, no, che poi ieri in pratica, per ritornare, no, vi ricordate il video, quello lì, dei viaggi nel tempo, no, con i video, i filmati, i velli, girati tipo un Super 8, un VHS, della famiglia, no, così, no, ieri abbiamo, siamo entrati in possesso delle videocassette, dei filmati, ne mancano ancora tanti, quindi stiamo cercando, di raccattare, insomma, queste videocassette, per salvaguardare la memoria, e abbiamo trovato anche un filmato veramente, ed è bellino, tenero a bestia, di chiro, da piccino, proprio come era bellino, e ora stiamo cercando le videocassette, dove c'è, dove ci sono, Paola, Maurizio e Viviana, la banda fratelli, esatto, la banda fratelli da piccini, proprio, perché ha detto la mamma di Paola, esiste questa videocassetta, quindi dobbiamo cercarli e metterli su DVD, perché, insomma, è bello, poi, quando ti vai a rivedere, no, queste cose, sono proprio dei veri e propri viaggi, nel tempo, nella memoria, Paola è già stanca di stirare, cioè, non è... Paola è stanca, sono già rotta, stirare non rientra nelle manzioni di un tecnico, amore. Perché Paola è tecnico, eh, voi non lo sapete, anzi, sì, lo sapete, perché l'abbiamo detto più e più volte, Paola è tecnico, uno dice tecnico di Osa, chi può veramente dirlo? Signorina De Pierno, o signora, tutte le volte si etichetta come tecnico, si spaccia come tecnico, ma tecnico di cosa? Tecnico radionogo. Vado a comprare le sigarette, se non torno per mezzogiorno. Chiamo il presidente. Come fai a saperlo? Questa è una prova per stasera, eh, amore? Sono fatti un po' alla rinfusa, giusto per vedere se possono venire così corti, se no... Eh?